Questo è molto più di un caffè. È la storia di una passione, nata in Italia nel 1895 dal consiglio di un padre. La storia di un giovane italiano, pieno di curiosità e di coraggio, che fece un salto nel futuro. Viaggiando e vedendo cose che ispirarono la sua immaginazione. Inventò un nuovo mondo di aromi e di gusto, miscelando i caffè dei paesi più lontani ed esotici, e scoprì l'armonia perfetta. Fu il mago che creò la miscela del caffè. Era Luigi Lavazza, il maestro del caffè italiano. Ma cosa gli disse il padre? Nella vita c'è sempre qualcosa di più da scoprire. Grazie. Grazie.